Oggi un pochino in ritardo, sì, non ci siamo visti in pausa pranzo, ma non per colpa mia, semplicemente non c'era niente di cui discutere. L'unica novità di cui non abbiamo parlato è rinnovo di contratto di Danilo, che potremmo commentare comunque comodamente più avanti, avevo già scritto anche un articolo a riguardo, qualche spunto in vari video erano già venuti fuori, però poi ne parleremo a tempo debito, in questo momento concentriamoci sulla partita semplicemente perché poi Allegri parlava alle 14.30, quindi non aveva senso caricare un video, registrare un video, fare chiacchiere sul niente, sul nulla condito con niente, a me non piace mai particolarmente registrare tanto per, mi piace farlo, per commentare alcune cose come parole, come partite, come idee, come analisi, e quindi eccoci qua. Tra l'altro oggi ragazzi non è il solo appuntamento, perché prima è uscito sul canale di Tutti i Teorici il secondo episodio in compagnia di Seba Frey. Non so in quanti si hanno a conoscenza di quanti rilanci io abbia fatto a livello di fantacalcio per Frey, infatti è una delle domande che vi faccio all'interno della bella chiacchierata e vi invito ad andarlo a vedere sul canale di Tutti i Teorici, è uscito praticamente da pochi minuti, quindi sarete tra i primi a vedere questa nuova puntata inedita, vi consiglio di fare un giro. Ma cerchiamo di commentare anche quella che è stata la conferenza stampa di presentazione di Juventus Nantes. Non solo Allegri, perché come sappiamo quando si gioca in Coppa Europea c'è sempre anche un calciatore al suo fianco, oggi era Bremer. Quindi partiamo dalle parole di Bremer, che dice, è una partita importante, ne abbiamo già parlato ieri con mister e squadra, dobbiamo arrivare in fondo ma facciamo una partita alla volta partendola domani. Quindi Bremer che è stato reincarnato, Allegri si è reincarnato nella figura di Bremer, parla per bocca di Bremer, dice le cose per conto di Bremer, ma sono gli stessi concetti che Allegri ci sta presentando da un po' all'interno della conferenza stampa da quando c'è stata la penalizzazione. Abbiamo capito che questa è la linea comunicativa della Juventus e non solo di Allegri, magari è una linea comunicativa che è stata dettata, che viene dall'alto. Ricorderete quando abbiamo visto il loro ornoting con Andrea Pirlo, c'era proprio anche una preparazione delle conferenze stampa in cui l'ufficio della Juventus andava a spiegare all'allenatore quali potevano essere le cose da dire, quali erano le cose da non dire, quindi magari proprio una linea guida dettata dalla Juventus. Può essere un'ipotesi come può essere una linea guida dettata da Allegri, non sappiamo bene come ragiono in questo momento, però è curioso e singolare vedere che anche i calciatori dicono bene o male le stesse cose. Lo scorso anno giocavo a tre, ma sono a disposizione del mister della squadra anche per giocare a quattro come inizio anno. Ora invece siamo a tre e ci siamo trovati bene. Non so se la Juventus rimarrà a tre o tornerà a quattro, però comunque Bremer tiene a farci sapere che comunque per lui non cambia niente, si preferisce sicuramente a tre perché ci ha già giocato, ma anche a quattro non è male. Tra l'altro Bremer durante la sua presentazione, non so anche qua quanti si ricordano, ma parlava di una Juventus che poteva essere importante anche in chiave nazionale per lui, perché comunque il Brasile si gioca a quattro così come nella Juventus e invece poi al Mondiale c'è andato giocando la difesa a tre nella Juventus. Quindi corsi e ricorsi storici e domande e risposte di Bremer che si intrecciano a seconda dei momenti. Il mio bilancio alla Juventus per ora è positivo anche se ho fatto qualche partita non eccellente come Napoli e Monza. Fino a fine stagione dovrò continuare la crescita in vista del prossimo anno che sarà importante. Questa domanda verrà ripresa dai giornalisti che l'andranno a spezzare in due e Bremer andrà ad approfondire tutto questo. Quindi per il momento mi fermo qua. Dice siamo una bella squadra, un bel gruppo, sappiamo delle difficoltà che stiamo passando ma dobbiamo continuare così. Abbiamo fatto alcune partite non all'altezza ma abbiamo anche vinto otto gare di fila. La squadra c'è, dobbiamo continuare così. E poi gli chiedono perché il prossimo anno? Perché il prossimo anno sarà importante non quest'anno? E Bremer dice il prossimo anno sarà importante perché quest'anno ci hanno tolto 15 punti. Dobbiamo finire bene la stagione perché l'anno prossimo inizia da zero e le saranno diverse. Quindi Bremer ci fa capire che comunque non ce n'era bisogno per quanto mi riguarda, però Bremer ci fa capire che la squadra ha accusato questa cosa e che quindi già quest'anno si ragiona in vista dell'anno prossimo dove si ripartirà da zero, dove ci sarà una classifica differente perché questi 15 punti sicuramente hanno toccato e non poco quelli che sono gli obiettivi e appunto le aspettative, citando Bremer della squadra. Bremer continua e dice che tutta la squadra si è ritrovata in questo momento, ma tornare a vincere non dipenderà soltanto dalla fase difensiva dei difensori, anche gli attaccanti possono aiutarci chiudendo le linee di passaggio. Assolutamente sì, è una cosa che si dice sempre troppo poco. Quando si parla di difesa ovviamente si focalizza sui difensori, ma in realtà si attacca tutti insieme, si difende tutti insieme, che sono concetti che comunque quando andiamo a fare analisi spesso e volentieri mettiamo in evidenza. Dobbiamo pensare positivo e dare il nostro massimo, poi vedere cosa accade a fine stagione. Ogni partita è come una finale, vediamo che succede. Secondo me però questa è una visione differente rispetto a quella di Allegri del facciamo partita o partita. Secondo me è questo, e poi a fine stagione vediamo che succede, poi vediamo che cosa accade, è anche legato al fatto dei 15 punti, perché qua Allegri e Bremer danno due risposte diverse in realtà, nel senso che Bremer dice non so se ce li ridaranno questi 15 punti, invece poi Allegri dice inutile stare qua a pensare che ci potrebbero ridare 15 punti. Quindi sebbene ci sia probabilmente una linea di pensiero condivisa, di comunicativo condivisa prima delle conferenze stampa, abbiamo anche una differenza di vedute a seconda di quello che è il ruolo ricoperto all'interno della Juventus. Poi Bremer dà una risposta che mi è piaciuta tantissimo, tantissimo, perché gli dicono quindi non hai giocato bene con Napoli e Monza e lui dice oh, a me non piace cercare alibi. Ho fatto male in due partite, nel senso della serie ne sono consapevole, è così, punto. Quando sono arrivato 5 anni fa non mi conosceva nessuno, lo scorso anno ho vinto il premio in Serie A come miglior difensore, la mia forza è la resilienza e quindi devo continuare così migliorando dove so di dover migliorare. Quindi proprio una risposta perfetta da parte di Bremer, Bremer è anche molto preciso e puntiglioso, ce l'ha raccontato un difensore che riguarda spesso e volentieri i suoi errori per cercare di capire dove ha sbagliato per non poterli, per non andare poi a ricommetterli. Quindi sicuramente mi piace sentire Bremer che ragiona e che le lavora in questo modo. Poi una piccola variante tattica per quanto riguarda la difesa 3, perché è vero che l'anno scorso Bremer giocava la difesa 3 come in questo momento, però dice lo scorso anno giocavo a uomo, qui invece lavoriamo a zona. Da questo aspetto sto lavorando e migliorando con il mister, quindi già questa è una differenza grossa per quanto riguarda lo scorso anno con il Toro di Iuri, dove andava sempre volentieri spesso e volentieri uomo su uomo, invece qua tante volte lavoriamo anche a zona. Ci sono state delle partite che la Juventus comunque ha fatto a uomo, ma spesso e volentieri si lavora a zona. Anche Landuccio aveva parlato di questa cosa post Monza, sono diverse scelte, diversi modi di vedere il calcio, la Juventus effettivamente o fa un misto o comunque va a zona, uomo la vedi davvero raramente. Abbiamo visto gli allies del Nantes, siamo ordinati e giocano bene un calcio francese, dobbiamo mettere bene la fase difensiva, davanti invece abbiamo qualità per fare gol. Quindi la prima risposta, l'ultima risposta è proprio Allegri che si è impossessato di Bremer e ha parlato con la bocca di Bremer, ha espresso concetti allegriani con la voce di Bremer. E quindi passiamo all'allenatore, sentiamo che cosa ha detto Massimiliano Allegri. Dice domani recuperiamo Quadrado, Bonucci che dovrà resaporare il clima partita, unici fuori Pogba e Caio. Allora qui punto di domanda, Miretti e Milik, poi Allegri si correggerà dicendo Milik non è ancora pronto a stare recuperando, invece Miretti disperso, perso all'interno delle liste da parte di Massimiliano Allegri. Eh ma da quando è entrato Miretti in camera con Allegri all'interno della sua stanza in ritiro, non è più la stessa storia tra di loro. Un battuto ovviamente, magari nemmeno di bellissimo gusto. Domani inizia l'Europa League, un percorso europeo dove purtroppo siamo perché siamo stati eliminati in Champions. Obiettivo importante perché ci può anche riportare in Champions. Il spareggio con il Nant può regalarci gli ottavi per arrivare in fondo. Allora sì, nel senso che l'Europa League ci può regalare la Champions, certo, può regalarci una qualificazione in Champions, ma io aggiungo che l'Europa League ci può regalare un trofeo. Ci può regalare un trofeo europeo ed è una cosa che ci manca, è un Europa League che abbiamo anche sfiorato se vogliamo l'ultimo anno di conto e quindi io più che l'Europa League per tornare in Champions, perché un anno senza Champions, da tifoso ovviamente sono disposto a farmela, poi ovviamente la Juve dovrà fare dei conti differenti a livello economico, a me piacerebbe vincere un trofeo, dato che l'anno scorso non abbiamo vinto niente, dato che in Europa non vinciamo niente da un pezzo, dato che io non ho mai visto la Juve vincere un Europa, mi piacerebbe vincere un trofeo. Non è la Champions, però è qualcosa da portare a casa in una stagione del genere, beh, non sarebbe male. Il fatto di essere uscita la Champions ci ha lasciato con la mare in bocca molto arrabbiati. Domani inizia un nuovo percorso, non è semplice giocare e vincere in Europa, ma soprattutto non è semplice affrontare le squadre francesi, sono squadre fisiche. Il Nant delle ultime dieci ha perso soltanto la Marseilla facendo sei clean sheet, hanno giocatori di velocità e tecnica davanti, il passaggio si gioca su 180 minuti, domani serve mettere le basi per affrontare il ritorno con buon vantaggio. Allora, lo stato delle ultime dieci sinceramente non me lo ricordo, ieri abbiamo fatto il video guardando un po' di statistiche, non abbiamo guardato questa cosa, ma nel complesso avevamo visto che il Nant non ha dei numeri meravigliosi, anzi è una squadra che non è specializzata in realtà nell'attaccare, nel difendere, è una squadra che comunque le sue sconfitte, i suoi pareggi li porta a casa, se magari negli ultimi dieci davvero sarà così, o magari non è stato così, fa poi anche lo stesso, nel senso che non sembra la squadra di relazione come è stata il Benfica, per intenderci, in Champions League, anzi, sembra una squadra molto molto normale, dove la Juventus non può fare brutta figura, a maggior ragione perché sei in Europa League, o comunque negli spareggi, nei sedicesimi di Europa League, se vogliamo chiamarli così, proprio perché è stato eliminato dalla Champions, e questa cosa non si cancella all'interno di giudizio di stagione, che poi è ovvio, diventa difficile a valutare per le cose che sono successe in mezzo, ma quando sei stato eliminato dalla Champions non erano accadute, quindi da quel punto di vista l'obiettivo è stato super fallito, è stato un fallimento essere stati eliminati dai gironi, e quindi vediamo di non essere nuovamente eliminati in Europa League così presto da una squadra alla quale te la puoi tranquillamente, tranquillamente giocare. Non ho ancora deciso la formazione, stamattina abbiamo fatto l'allenamento, stiamo giocando ogni tre giorni, lo vorrà valutare tra domani e domenica, la partita con lo Spezia e chi far giocare, questa è la solita frase di Massimiliano Allegri per non dare indicazioni dal punto di vista tattico agli avversari. L'Europa League non incide sulle scelte del mio futuro, siamo concentrati sul presente, partita dopo partita, passo dopo passo. Questa è la nostra forza da qui alla fine, in ogni competizione, vanno migliorate alcune cose come gestire meglio la palla dove domenica con la Fiorentina non abbiamo fatto bene il secondo tempo. Quindi il solito incipit ripetitivo del solito concetto che stiamo ascoltando da un po' di tempo a questa parte, e poi un po' bastone, un po' carota, dobbiamo migliorare perché non abbiamo fatto bene il gestione della palla con la Fiorentina. Quindi sì, effettivamente il secondo tempo, ma la partita con la Fiorentina nel complesso non è che sia piaciuta così tanto, però sicuramente nel secondo tempo sono stati degli errori in una fase di gestione. Secondo me non ci sarà il tridente domani, comunque vedremo. Ieri il ragazzo ha detto che l'Europa c'è la possibilità di riempire il calendario, se no diventa noioso. La Coppa Italia l'abbiamo riempita, ora sarà riempire anche l'Europa League per giocare le più partite possibili. Anche qua non mi concentro a commentare questa frase perché tornerà fuori dopo in un'altra veste, nello stesso concetto, però quindi ne parleremo dopo. In Champions non è andata bene, siamo stati eliminati. Anche domani per me è un debutto, non ho mai fatto una panchina in Europa League. A maggior ragione serve rispetto per il Nant, perché la nostra forza è lavorare ogni partita con grande rispetto, guadagnando centimetro dopo centimetro per vincere. Serve essere squadra, ragazzi lo stanno dimostrando. Qua proprio la fiera delle frasi fatte messe tutte dentro, anche senza un vero punto di vista logico, grammaticale, tutte le abbiamo dette qua. Proprio qualsiasi cosa, un centimetro, un centimetro, rispetto, lavorare la partita. Quindi proprio qua. Domani è il primo round, serve il massimo impegno e rispetto per fare una bella partita. E poi, di nuovo, diamo tutti un passettino alla volta, sia la squadra, sia Pogba. Anche perché anche Milik non è ancora recuperato. Pogba ha fatto un allenamento oggi con la squadra, ma è ancora indietro, va valutato giorno dopo giorno. Giocare il giovedì e la domenica è come giocare in Champions il mercoledì, ma poi il sabato in campionato. Ho una rosa importante, cinque cambi di esposizione che mi daranno una mano, ovviamente se li indovinerò. Inutile lamentarsi se si gioca giovedì e domenica, oppure magari eventualmente lunedì. Giochiamo quando ce lo dicono. E qua, mi piace che Allegri non stia a trovare tante scuse. Si gioca quando si gioca. È ovvio che magari ogni tanto ci sono dei calendari un po' tirati, però se sei in Europa League è perché non sei andato avanti in Champions. Non è colpa di nessuno di quelli che fai i calendari. Poi Allegri dice, io non sono un condottiero, sono un allenatore. Questa è una bella domanda di Balzarini, che gli ha detto, ti abbiamo visto differente negli ultimi periodi esultare, riprendere i tifosi e robe del genere. Ed è vero, sto vedendo un Allegri diverso rispetto a tutti gli altri anni che aveva fatto la Juventus. Allegri dice, io non sono un condottiero, sono un allenatore. Alla base c'è la società, che è forte. Ci sono momenti e momenti, anche io sono umano. In questo momento la compattezza deve fare la differenza. Ad una squadra che vengono tolti i 15 punti da sera a mattina deve trovare delle situazioni per ricompattarsi velocemente. Infatti abbiamo perso la Monza in casa, una massata dopo la bella reazione che abbiamo avuto con l'Atalanta. Ci siamo riassestati, domani dobbiamo cercare di vincere e preparare la partita di Spezia, che sarà difficile e complicata. Allora, questa credo che sia forse la più interessante come domanda, perché penso che ognuno possa avere la sua opinione su Massimiliano Allegri per quanto riguarda quello che fa fare alla squadra in campo. Non c'è bisogno di stare qui e dire un'idea giusta, un'idea sbagliata. Ognuno può avere l'idea che gli pare. Però dal punto di vista della compattezza sicuramente, sicuramente, in questo momento io vedo un Allegri che sta difendendo la squadra. Cioè ci sta mettendo qualcosa in più che prima non aveva messo. E da questo punto di vista gli va assolutamente, assolutamente riconosciuto. Che era anche quello che mi aveva dato fastidio, se ricorderete quando aveva fatto quell'uscita post-Monza dicendo adesso dobbiamo salvarci. E mi sembrava un po' buttare il dito sulla squadra. Col seno di poi, invece, quella reazione è stata forte, quella frase probabilmente è stata forte, ha generato una reazione sulla squadra. La compattezza se la devono avere loro interna. Cioè loro internamente devono avere questa compattezza, loro devono sentirsi compatti e Allegri, secondo me da questo punto di vista, sta aiutando la squadra, assolutamente. Che non c'entra niente con quello che viene in campo, con le scelte, con la tattica, no. Sto parlando proprio a livello umano. Sono due cose differenti. Anche l'altro giorno ho parlato del fatto che mi è piaciuto vedere un Allegri che comunque difendeva i suoi calciatori. Quindi io da questo punto di vista ho veramente poche cose da dire. Secondo me Allegri sta lavorando bene sotto questo profilo. Non mi è piaciuta invece tanto l'altra risposta. E qua si apre un altro scontro, secondo me, ideologico, probabilmente. Forse di età, anche di tempi, no? Di stare al passo con i tempi. Perché Allegri dice che l'Europa League conta perché più partite ci sono, meno ti alleni. E siamo più impegnati a livello mentale. Noi facciamo questo lavoro per le sfide, non per allenarci. L'allenamento è importante per preparare le partite, ma in allenamento le sfide non ci sono. Allora, mi fermo un secondo, perché poi il resto della domanda non sarà inerente a questa cosa. E quindi vorrei un attimino ragionare su questa cosa qui. Perché? Perché Allegri dice noi non facciamo questo lavoro per allenarci, lo facciamo per le sfide. Allora, sì, è vero che la Juventus, anzi, in generale nel calcio, fanno questo lavoro per le sfide. È vero che l'allenamento ti serve a prepararti alle sfide, però secondo me il calcio, non dico oggi, perché già da due, tre anni a questa parte ce lo sta dimostrando veramente di più. Guardate, battezziamo il lockdown come momento in cui secondo me il calcio ha subito un'evoluzione ancora maggiore dal punto di vista dello studio che può essere applicato veramente al gioco del calcio proprio perché si sono sviluppate altre tecnologie e secondo me dal lockdown in più in poi abbiamo migliorato anche un po' tutti il nostro rapporto con la tecnologia che è stata anche implementata e tanto nel calcio magari anche solo con gli smart working, mi viene da dire. Quindi una situazione che ci ha giocoforza obbligati, tra virgolette, a diventare più tecnologici o più social o comunque con delle interazioni maggiori con le macchine rispetto a prima diminuendo magari anche le interazioni a livello personale. Questo è ovviamente l'altro lato della medaglia. Quindi il discorso dell'allenamento e meno della partita questa è una situazione che qui c'è tutto Massimiliano Allegri tutto Massimiliano Allegri perché è un allenatore che l'allenamento lo utilizza non per far imparare alla squadra i movimenti non per creare delle situazioni di gioco dei pattern di gioco che verranno poi ripetuti all'interno della partita. L'allenamento si fa perché devi mettere minuti nelle gambe devi recuperare, devi fare i tiri in porta devi migliorare la tecnica magari fai degli attacco contro difesa eventualmente provi a far girare la palla con i giocatori che ipotizzi i titolari quindi fai le prove di formazione Allegri non ha bisogno di una settimana intera infatti prima dice se veniamo eliminati anche dall'Europa League ci rimane una settimana piena e Allegri in una settimana si annoia proprio perché ha un modo di approcciare il calcio molto in controtendenza probabilmente rispetto a quello che sta diventando e che appunto dal post-covid in poi ha iniziato a correre il calcio in questa direzione quindi molto in controtendenza però qui c'è tutto Massimiliano Allegri ripeto io non sono d'accordo perché secondo me ci sono delle cose oggettive che ci stanno mostrando che il calcio sta andando in una direzione sempre differente poi io sono dell'idea che il pallone sia rotondo e le cose che Allegri chiama mode che in realtà secondo me sono evoluzioni possono comunque scontrarsi c'è questo scontro ideologico anche forse uno scontro cronologico di ideologie differenti che possono comunque fare male anche a quello che è il calcio moderno e il calcio di oggi è il calcio in evoluzione quindi per fortuna la palla è tonda può succedere sempre tutto il calcio diventa impronosticabile proprio perché anche io credo che la partita con la Fiorentina sia stata anche un po' la dimostrazione che conferma quello che vi sto dicendo facciamo il gol dell'1-0 perché c'è la gol light technology vibra l'orologio dell'arbitro c'è scritto gol non facciamo il 2-0 perché c'è una mezza testa in fuori gioco loro non fanno l'1-1 perché c'è un mezzo tacco in fuori gioco questa è tecnologia questa è evoluzione sono centimetri e sono quelle cose che cambiano i risultati delle partite cambiano i risultati delle partite perché davvero il centimetro il secondo anche ieri sera il gol del Bayern la punta del piede in avanti che ti fa prendere quel passo quel passo in più di vantaggio sull'avversario quel passo lì come lo pronostichi come fai il pronostico di quella roba lì come la prepari anche eventualmente in allenamento o come la gestisci in partita quindi sono il calcio è bello proprio perché il campo è grande ci sono tante variabili non lo puoi prevedere anche per questa cosa qui però anche qui vedete è un discorso di evoluzione tecnologica poi siccome l'evoluzione oggi nel calcio lo studio del calcio ti aiuta tantissimo e ti porta anche ad essere avvantaggiato prima di giocare la partita prima di giocare la partita queste sono cose di cui potremmo stare qui a parlare per ore e ore e ore fatto sta che in questa risposta c'è tutto Massimiliano Allegri secondo me un allenatore che non ama allenare ma ama la partita Allegri via e para partita chi non ha ancora disdetto da zone e chi ha ancora a disposizione da zone io sapete bene che ho già spiegato i motivi ovviamente legati al lavoro per i quali non posso andare a disdirlo c'è un bel approfondimento che è stato creato proprio su Juventus Fiorentina con Allegri in primo piano si chiama l'istinto protettivo di Allegri una roba del genere in cui ci sono delle cam di Allegri in primo piano e si vede lì tutto quello che è Allegri in partita ultimamente a maggior ragione un Allegri che impazzisce salta proprio fa di tutto sembrava il diavolo proprio il diavolo incarnato in una perione non stava fermo un secondo sembrava posseduto finisce la partita nemmeno esulta si ricompone e va via nemmeno senza salutare l'avversario anche qua secondo me c'è c'è tutto proprio tutto Massimiliano Allegri la figura di Massimiliano Allegri fuori dal calcio proprio la personalità di Massimiliano Allegri passato da chiedere quanto manca ogni 5 secondi alla panchina che cosa manca se mancava due minuti prima mancherano un minuto di 55 secondi dopo 5 secondi proprio lei e poi finisce la partita calmo composto va alle telecamere fa la battuta fa lo scherzo quindi secondo me Massimiliano Allegri è così divisivo proprio perché non solo quello che c'è dentro il campo quello che mette dentro il campo ma anche per la sua personalità che passa per forza la sua personalità poi passa dentro il campo perché lui dice giustamente per quello che è lui a me allenarmi non mi piace mi piace di più giocare la partita e perché allenarti non ti piace perché ti piace preparare la partita in un certo modo che è diverso da quello che in questo momento va per la maggiore nel calcio e anche banalmente il fatto che stasera ci sia Arsenal Manchester City in Premier League che è la partita più di impatto rispetto alle altre due che si giocano in Champions io sono più portato a vedere quella piuttosto che la Champions perché perché sono due squadre che in questo momento sono moderne si danno battaglia per conquistare la Premier League che è il titolo migliore la Lega migliore in assoluto a livello europeo e quindi internazionale quindi nazionale e quindi mondiale sono due squadre moderne che sicuramente non vanno a seguire la filosofia della partita e non l'allenamento è un tuttuno un insieme delle cose qui c'è tutto Massimiliano Allegri secondo me potremmo parlarne per ore potremmo fare potremmo dividerlo anche per categorie non so se qualcuno è appassionato di psicologia potrebbe entrare ancora di più nella discussione sicuramente con strumenti maggiori rispetto ai miei però secondo me questa domanda di Balzarini di prima e questa domanda poi successiva ci hanno raccontato tanto di quello che è Allegri in questo momento poi dice il meno 15 ormai è passato la squadra è stata brave dobbiamo andare un gradino alla volta passare un gradino alla volta abbiamo tre squadre a pari merito in campionato anzi tre squadre una a pari merito in campionato e le altre ci stanno sopra ora la squadra ha capito dopo un po' di scombussolamento che dobbiamo avere un obiettivo di un passo alla volta ma la squadra ha fatto poi dice 46 no no scusate 44 che sono i punti che abbiamo fatto effettivamente 46 sarebbero stati con anche i due punti della Salernitana questo oggettivo le altre cose non riguardano noi noi dobbiamo riguardare al campo Chiesa ha recuperato bene dopo domenica è un segnale che anche fisicamente sta assorbendo meglio le partite che gioca poi dice dobbiamo affrontare partita dopo partita ma va avreste mai detto no questa vi ha sorpreso quando sei alla Juve devi vincere tutte le partite o creare almeno i presupposti per farlo dopo la partita hai due o tre giorni per preparare l'altra e sei più sereno che è il discorso che vi facevo prima se invece c'ha la settimana intera non c'hai due o tre giorni per preparare la partita c'hai una settimana per preparare una partita e per quello che è il modo l'approccio di Massimo Milano Allegri sono eccessivi in campionato devi risalire la china in Europa League devi andare avanti domani ci sarà la stadio pieno ed è un bel segnale da parte dei tifosi dobbiamo dare una bella risposta finisco poi in Coppa Italia con l'Inter non so cosa succederà ma è un obiettivo raggiunto io domani sarò allo stadio ve l'ho già detto tante volte con Davo bla 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 ragazzi io ho guardato i biglietti sul sito della Juventus costavano pochissimo abbiamo pagato meno di 40 euro una tribuna quindi domani è lo stadio pieno proprio perché sicuramente i tifosi sono stati attratti da una partita e magari in un giorno anche inusuale ma soprattutto da un prezzo molto competitivo e io spero che domani lo stadio possa essere veramente una bolgia spero davvero di vivere una serata come Dio comanda spero di vedere la Juve vincere spero di vedere anche tanti gol da parte la Juventus spero di divertirmi e spero che anche tutti gli altri che saranno allo stadio insieme potranno tornare a casa con un buon ricordo di questa serata perché il tifoso della Juve oggi ha bisogno secondo me anche di queste cose qui anche con la Fiorentina i tifosi sono stati bravi da quando ci hanno tolto i 15 punti anche i tifosi si sono compattati e ci stanno aiutando molto sono contento allora mister fatti un giro su Twitter che se vedi tifosi compatti basta 5 minuti e poi cambi idea non so se siamo i favoriti contro il Nant ma dai ma dai mister si alla Juventus contro il Nant non so se la vinceremo non so se passeremo ma i favoriti siamo i favoriti va bene tutto va bene il blef dai eh erano bianchi come questo joystick qui avevamo paura di giocare col Malmo dai mister su sono una squadra con risultati solidi hanno giocatori tecnici davanti voglio abbracciare il giocatore che ha perso il bambino è una cosa più importante non mi ricordo mi sa una bambina se ben ricordo dispiace non averlo domani come avversario in bocca al lupo alla next gen che giocano in finale di ritorno di Coppa Italia contro il Foggia sperando che arrivino in finale finale di Coppa Italia serie C che tra l'altro la next gen ha già vinto in quell'occasione era titolare a centrocampo Niccolò Fagioli vediamo se sarà presente anche domani in Europa League dopo tanti anni tra l'altro l'ultima volta fun fact l'ultima volta che siamo arrivati che abbiamo giocato in Europa League Pogba era presente così come Bonucci no? e quindi Pogba torna in Europa League con la Juventus dall'ultima volta che ci abbiamo giocato Allegri non aveva mai giocato aveva allenato in Europa League Pogba invece ci aveva già giocato le ricordavate questa cosa ma chi se la scorda chi se la scorda non aveva mai giocato